Non c'è questa possibilità, perché noi siamo un gruppo e rimaniamo uniti con l'unico sogno, quello di riaprire il cinema. E' il momento di oggi, questo pezzino è organizzato per il mio amicizio primo e ringrazio la Presidente Alfonso. Al sostegno della Regione Lazio c'è qualche Presidente Zingaretti che ci segue e si spiega tempo. Ti ha dato un applauso a loro due prima di tutto. Poi c'è il Presidente della CIA, c'è il Presidente di TNL e il Garante per l'infanzia. Abbiamo fatto collaborazioni importanti.